Sono cambiate parecchie cose dall'ultimo incontro, il governo in Italia non è più quello che c'era quando ci siamo incontrati la volta scorsa e indubbiamente abbiamo avuto tutta una serie di eventi particolari che non hanno uguali nella storia del nostro paese e sicuramente neanche a livello mondiale. Lei nell'ultimo libro di cui parliamo in maniera estesa la volta scorsa, sto parlando di X-Day, ha fatto tutta una serie di spiegazioni sia su certi linguaggi, codici e simbologie usate da questo altissimo livello della massoneria, ma ha fatto anche delle ipotesi diciamo sulle strategie di dominio che questi gruppi di potere avrebbero posto in essere. Ecco, magari prima di entrare nel merito la domanda è come vede lei questa prosecuzione, vede che questi piani di cui ha parlato continuano ad essere posti in essere? Quando io rientro in Italia l'8-9 febbraio del 2020, io non trovo più l'Italia che era prima, viaggio in aereo con una mascherina e mi trovo di fronte al nuovo mondo. Mi bastano 20 giorni, dico 20 giorni nemmeno, 15, quando è stato il momento in cui si è presentato il primo caso eclatante accodogno di individuazione della presenza del caso primo, ma prima ve ne erano stati anche altri, però la diffusione vera parte da lì all'Unilever, e beh l'Unilever era stato esattamente la ragione delle mie missioni che avevo fatto partendo dalle descrizioni e ricostruzioni eseguite nel libro La Bestia, per seguire che cosa? Ciò che era avvenuto a Seveso nel 1976, quando si verificarono delle diffusioni sia occasionali, sia occasionali, ma di una sostanza, la diossina, che veniva usata come arma batteriologica nel Vietnam, dove appunto io andai per un mese proprio a cercare le tracce della diossina che gli Stati Uniti avevano usato come arma batteriologica per sterminare la popolazione lentamente perché era il prodotto che apparentemente avrebbe dovuto essere un erbicida, ma negli effetti che gli Stati Uniti agiva sul genoma della popolazione sia del Vietnam del Nord sia, come ho scoperto allora, parlando con i vecchi generali che erano presenti nell'epoca della guerra, in polveri colorate che venivano inserite dentro i cibi a seconda del colore che i cibi avevano e conseguentemente quelle giustificazioni che gli Stati Uniti avevano, hanno sempre fino ad oggi sostenuto per affermare l'assenza di una loro responsabilità perché non conoscevano gli effetti sull'uomo erano del tutto false perché nel momento in cui quei prodotti venivano immessi nei cibi anche nella popolazione dei forzati alleati vietnamiti del sud che erano come la parte meridionale dell'Italia, la parte meridionale della Corea la parte meridionale di tutte le guerre, cioè una parte meridionale che viene difesa dagli Stati Uniti e diventa alleata contro la parte settentrionale che è quella alleata, diciamo così, con il comunismo proprio essendo molto sommati nella ricostruzione. Ecco, quindi io e dato che quel caso che io avevo studiato e che trovava origine nei documenti del 1983-84 perché le industrie farmaceutiche erano state indicate già allora con la segnalazione di quelle implicate nel caso di Seveso e tra queste il vertice era l'Unilever, nel momento in cui io mi ritrovo la ricorrenza nella pandemia che si spande prima in Italia, prima in Lombardia, poi in Italia e quindi nel mondo perché prima era stata solo e semplicemente in una zona assai limitata della Cina, a Wuhan a me mi è venuto automaticamente, non perché l'abbia abbia dovuto faticare, era stato quello che avevo descritto nel libro precedente e allora è stato partendo da quello e partendo dai rapporti in cui oggi l'Unilever ha, che è una multinazionale olandese e che è in rapporto con Bill Gates e con altre multinazionali operanti come nel passato si verificò per le società farmaceutiche che diciamo erano dietro le industrie di Seveso risalendo alle industrie farmaceutiche che sono presenti in Italia e ricollegate a quel Rockefeller che avevo individuato essere direttamente collegato non solo a quella massoneria ma era collegato anche al sistema mondiale della distribuzione dei petroli con carattere di trasversalità ma anche al club di Roma e cioè una associazione segreta della quale sono oggettivamente presenti dei riferimenti di cui avevo parlato nel libro della bestia perché i riferimenti si ricollegavano sempre alla stessa massoneria che ruotava attorno ai rapporti gravitanti nell'attentato a Papa e ai traffici internazionali gravidanti attorno a Sofia mi sono ritrovato passo dopo passo esattamente di fronte a quei soggetti che non posso certo dire sono stati i soggetti che hanno creato il virus ci sono state anche delle occasioni ma senza quelle verifiche di carattere che possano conferire certezza sull'inizio perché sull'inizio è molto difficile riconoscere le responsabilità però posso dire che non ci sono state nemmeno delle indagini serie svolte a livello mondiale adesso io non sono uno scienziato e quindi lungi da me effettuare o avanzare delle supposizioni sulla responsabilità di chi abbia iniziato però esaminando gli aspetti che invece riguardano la gestione di tutto quello che ha accompagnato lo sviluppo prima in Italia e poi in tutto il mondo e alla fine negli Stati Uniti del virus praticamente io mi sono ritrovato piano 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 con una fretta impressionante direi a reimbattermi nei soggetti che già io avevo individuato nella storia che avevo ricostruito nella bestia ma che nella storia nostra quella degli anni 90 nella quale nel libro la bestia io avevo individuato e indicato e nessuno ci è lamentato di questa mia ricostruzione abbia abbia protestato ma io l'ho proposta come mia chiave di lettura proprio per la ricorrenza degli stessi soggetti che erano indagati stessi soggetti che risultano presenti e poi beneficiati nelle operazioni del susseguenti allo sbarco del Britannia che avviene tra la prima e la seconda strage in Italia nel 92 che sono state accade l'ho proposta 24 Grazie a tutti.